Siamo con il sindaco di Bagnoreggio, Francesco Biggiotti. In questi giorni si sta parlando di un episodio molto particolare che sta avvenendo, che è avvenuto appunto proprio riguardante Civita di Bagnoreggio. Era previsto lo svolgimento del Paglio degli Asini. Che cos'è successo? La tonna di Civita, una manifestazione folkloristica dove dei somari si esibiscono in una sorta di competizione. Una manifestazione che avviene ormai da oltre sei secoli. E' stata applicata dalla Commissione, in particolare dai veterinari dell'ASL, la visione più restrittiva della norma del decreto ministeriale Martini dell'ottobre scorso, che prevede nel caso di competizioni di equidi alcune prescrizioni, tra i quali anche l'antidoping. Viene da ridere perché parlare di antidoping è una manifestazione folkloristica dei somari. Per chi l'ha vista almeno una volta sa di cosa si tratta. Io credo che sia stata data una visione troppo restrittiva di questa norma e per questo abbiamo mandato ai nostri illegali di verificare se ci sono delle responsabilità oggettive e laddove ci fossero di andare a prevedere la Costituzione di parte civile da parte del Comune. Io credo che per l'appuntamento di settembre, perché la tonna si effettua due volte all'anno, non ci saranno problemi. Cercheremo di ottemperare quelle lì che sono anche le richieste più restrittive di questa norma. Tra l'altro vi hanno richiesto anche un'ambulanza dell'asla veterinaria sul posto? Sì, queste rientrano nelle prescrizioni previste dal decreto, da questo decreto ministeriale. Cercheremo di ottemperare a tutte quelle lì che sono le prescrizioni della legge. Ma come fa un'ambulanza ad arrivare a Civita di Bagnoreggio? Gli insomari avranno lo stesso trattamento almeno degli uomini. Purtroppo a Civita non è possibile accedere, non c'è lo spazio materiale per arrivare con un'ambulanza. L'ambulanza aspetterà la base del ponte di Civita e si metteranno in atto altri meccanismi e altri metodi per poter, nel caso, l'eventualità. Ma non succederà perché nel secolo non è mai successo e ora, facendogli scongiuri, spero che non succeda anche in futuro, nessun somaro asino di Civita si è mai fatto male. Anche perché gli asini non vanno al galoppo forzennato? Credo che la velocità massima che potranno raggiungere i nostri asini è di 5 km all'ora quando sono lanciati, quindi i pericoli secondo me sono dei fantasmi che sicuramente faranno sì che ci saranno problemi a Bagnoreggio. Allora in bocca al lupo per l'edizione di settembre. Grazie, grazie a voi.